E' iniziato il processo di rinascita della riserva d'Annunziana, dai comparti 5, poi 4 e 3, i duramente devastati dall'incendio del 1 agosto 2021. Ci vorranno 5 mesi fino all'aprile 2024 per l'abbattimento e la rimozione degli alberi morti. L'intervento è partito solo in questi giorni. Perché le pigne che sono chiuse generalmente nel momento in cui c'è un incendio si aprono per gettare a terra i semi. Quest'operazione avviene in due anni e noi due anni abbiamo aspettato. L'intervento sarà quindi realizzato salvaguardando tutte le piantine che stanno rinascendo. Sindaco Masci e vice sindaco Santilli con Francesco Cennilini, responsabile della sicurezza, il RUP, il Vio di Paolo e Giuseppe Farina, direttore dei lavori, spiegano come gli operai della ditta incaricata abbiano individuato questo percorso proprio per indicare la strada corretta da seguire, per evitare che le piantine che sono rinate vengano calpestate. Con la valutazione del numero delle nuove piante si proseguirà con la messa a dimora di nuovi esemplari autoctoni. L'importo di questo primo intervento è di 134 mila euro ed è propedeutico anche per motivi di sicurezza all'apertura della nuova via Pantini già completata. Questo tratto ci permette di completare quella strada pendolo che si aspettava da circa 40 anni e che noi abbiamo completato realizzando tre tratti negli ultimi due anni. Step successivo è lo smantellamento di via della Bonifica per ricongiungere i comparti 4 e 5 in un unico grande parco e recuperando a verde 20.000 metri quadri di terreno. Per questo noi ci teniamo in modo particolare a riportare la pineta a quello che era lo splendore prima di quel maledetto giorno del primo agosto del 2021. Grazie per la visione!